Il nostro viaggio su eSport sta durando da più di un anno e mezzo, stiamo crescendo, la community sta crescendo, ma c'è sempre un solo tarlo nel vostro cervellino, e cioè che per diventare bravi a giochi come Fortnite, Valorant, Apex, Overwatch, Call of Duty, eccetera eccetera, stiamo parlando essenzialmente di FPS, First Personal Shooter, ci voglia solo una cosa, la mira. Ragazzi, io credo in questo anno e mezzo di avervi portato tante motivazioni e tanti video nella quale obiettivamente vi ho fatto comprendere di come la mira non è il fattore cardine e base sulla quale posare il vostro gameplay. Ma voi siete de goccio, ed obiettivamente, dato che la community adesso nostra si è allargata, la domanda permane, e cioè come posso migliorare la mia mira? E io voglio aggiungerci un carico nel video di oggi, che mi ha richiesto molta attenzione, molti sforzi e molti studi specialistici, e cioè come posso allenare la mia mira? E soprattutto, allenare la mira? Merita o non merita? Per quanto tempo? Ragazzi, la mira è un discorso abbastanza ampio e grande, e appunto, come vi ho detto, mi ha richiesto sforzi e energie, perché più comprendo più i minfogni in questo mondo, e più scopro di quanto può essere incredibilmente dettagliato e anche specifico. Spero che apprezzate il mio sforzo, spero che apprezzate quello che sto cercando di portare, spero che questo video vi possa davvero illuminare sulla mira, sul training e sul fatto che può essere più o meno utile durante i nostri gameplay. Non ci credete? Guardatelo dall'inizio alla fine, e benvenuti su questo nuovo video. Iniziamo questo viaggio nella mira con, appunto, la premessa che ho fatto all'inizio di questo video, e cioè, per diventare un bravo player, basta semplicemente allenare la mira? Beh, ragazzi, è una credenza molto comune nei player di tutto il mondo. Se fate questa domanda a 100 player, più del 76% potrebbe rispondervi, appunto, sì. Per diventare bravo, per andare su nelle ranked, per dominare Invalorant, Apex, Fortnite, devo essere bravo nella mira. Ma la risposta giusta non è sì, hai ragione, è zni, ed è più un no al 50% che se non un sì che, appunto, surclassa il no. Che cosa voglio dire con questo? Beh, ragazzi, come vi ho dimostrato in quest'anno e mezzo in cui siamo insieme, per diventare un bravo player servono un'enormità di competenze, ok? E se vogliamo diventare bravi in uno sparatutto, non dobbiamo semplicemente metterci le nostre abilità di mira. Ma ci sono tanti altri fattori. Come si gestisce quell'arma in quel videogioco, come il videogioco deve essere gestito e portato avanti, e soprattutto tutta un'altra serie enormi di competenze, come ad esempio flank, strategie, comunicazione di squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora una volta, lo ripetiamo per poi andare in uno step successivo. La mira non è la cosa che vi farà diventare dei player migliori. Non l'è mai stato e mai lo sarà. Eppure, ragazzi, come vi dicevo, è usanza comune pensare che poter utilizzare o avere tanta mira, tanta accuratezza, saper fare un bel tracking durante una partita in Apex, in Valorant e in Fortnite, vi permetterà di vincere sempre. Sì, certo, credete agli UFO. No, ragazzi, non è mai stato così. Non lo è mai stato e mai lo sarà. E gli esempi ve li posso raccontare per ogni singolo gioco che andiamo a vedere. In Fortnite, senza avere una strategia in testa, senza avere un po' di intelligenza, o senza obiettivamente domare altre questioni, come ad esempio il build e l'editing, beh, la mira non ci servirà più di tanto. In Valorant, se non conosciamo gli angoli e come essi devono essere portati, oppure cosa può fare ogni determinato agente, come esso può interagire, e come noi possiamo interagire con la squadra della nostra mira, ce ne facciamo nulla. Allo stesso tempo in Apex. Sì, forse in Apex potrebbe essere che la mira vi aiuti, indubbiamente, a battere velocemente tutte le rank, diciamo, di bassa lega. Parlo quelle bronze, parlo di quelle silver e anche delle prime in gold. Perché lì i player, ragazzi, ci arrivano un po' così, un po' per fortuna, un po' perché non ci sono i team, un po' perché non comprendono il gioco. E quindi, essenzialmente, in questo gioco di terzetti, ne prendi uno, lo tracchi, lo butti giù, non lavorano di comunicazioni, uno da una parte, uno dall'altro, l'octane a destra e a sinistra, riuscite facilmente a vincere qualche fight. Ma poi la situazione diventa completamente differente quando entrate, appunto, nelle ultime rank gold, o nelle prime rank in platino, dove le squadre sono formate, dove il gameplay e le meccaniche interne al gioco sono assodate dai player. Se voi non li avete assorbite, come pensate di poter dominare? Con qualche bella fuccilata, con qualche bella headshot? Sì, magari qualche game riuscirete a farlo, ma poi vi bloccherete lì, perché, appunto, non siete riusciti a dominare la questione importante del videogioco. E cioè, come si gioca a questo titolo? Bene, ora che abbiamo compreso che la mira non ci serve, o per meglio dire, non è la questione cardine e base con la quale affrontare un titolo e poi rancare su di esso, è importante per noi andare un passino indietro. Attualmente molti player consigliano alla community di utilizzare degli aim trainer come, ad esempio, Kovac, ok? E quindi in molti si sono riversati su questo aim trailer, oppure si sono riversati su tanti altri aim trailer che sono presenti in commercio. Ora, la domanda che vado a porvi e a cui poi ho dovuto andare a fare una ricerca importante è ma questi aim trainer servono davvero? No, perché ragazzi, la risposta vi sorprenderà. Anche qui è più un no che sì. Ma com'è possibile che questi aim trainer che tanto ci sono stati consigliati dai pro player in giro per il mondo, tu dici che non servono più di tanto? E credetemi, anche qui la questione logica e il saper giocare a quel titolo e comprendere le meccaniche di quel videogioco sono la spiegazione logica alla quale tutti arrivano. Insomma, poter essere veloce, avere una grande accuratezza attraverso questi simulatori poi non ti garantisce di avere le stesse percentuali e riuscire a battere i tuoi nemici nel gioco che vuoi. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. Beh ragazzi, dovete sapere che gli aim trainers come ad esempio Aim Lab oppure Kovac essenzialmente sono degli aim trailer, dei allenamenti per la nostra mira che però potremmo definire che vanno benissimo per tutti quelli che non ce l'hanno ma non vanno per niente bene per tutti quelli che vogliono hanno già un po' di mira e la vogliono boostare se così possiamo definirla. E perché? E perché ragazzi essenzialmente aim trailer e Kovac hanno un sistema di mira generalizzato. Che cosa voglio dire? Che all'interno di come spara quell'arma all'interno di questi programmi non è la stessa identica cosa delle armi che troverete nel vostro videogioco. Ad esempio, continuiamo ad andare più sul dettaglio, quando utilizzate un'arma in Kovac, ok? Essa non sarà uguale al rinculo, al bloom, al ratio di fuoco delle armi che trovate in Valorant, Apex e Fortnite. Perché appunto ogni arma ha determinate caratteristiche e tale determinate caratteristiche in questi aim trainers generali non funzionano correttamente. E questo che cosa ti porta a fare? Beh ragazzi, sì, aim trainer, aim lab, Kovac vi aiutano sicuramente a migliorare l'accuratezza, a comprendere e a migliorare il tracking, e cioè il seguire un obiettivo, a sparare più velocemente. ma quando poi entreremo nei nostri giochi beh, la situazione non sarà esattamente uguale a quella che abbiamo trovato in aim lab, Kovac e aim trainers generali. Per cui, ecco che ad esempio un IVA 8 di di ad esempio Apex potremmo non trovarci molto bene con il suo rinculo e con il suo ratio di fuoco. E ragazzi, pensateci, c'è l'IVA 8, c'è il P-Skipper e c'è il Mastiff. Sono tre armi uguali? Hanno la stessa cadenza di fuoco? Hanno la stessa portata? Assolutissimamente no! Ora facciamo altri esempi e andiamo in Fortnite. La K e il fucile d'assalto e il vampa fucile hanno gli stessi identiche cadenze? Si muovono nello stesso identico modo? Hanno lo stesso identico rinculo? Hanno lo stesso identico bloom? Assolutissimamente no! ed ecco appunto che cose intendo per game trainer vanno benissimo in linea generale ma poi la loro efficacia si perde davvero molto velocemente per appunto le motivazioni che vi ho elencato. Per fare un altro esempio non è che basta allenare il nostro corpo a correre per diventare dei velocisti e allo stesso modo utilizzare lo stesso trainer per diventare dei maratonetti comprendete che entrambi sfruttano la potenza delle nostre gambe entrambi richiedono però esercizi specifici sebbene si utilizzano le gambe per correre il maratoneta e il velocista hanno fabbisogni e hanno necessità completamente differenti stessa cosa per la mira nei nostri giochi quindi utilizzare gli aim trainers è davvero così efficace e se non è così efficace perché tutti dicono che è efficace beh ragazzi come ho già detto non è che non sia efficace obiettivamente però come ogni santa cosa deve essere utilizzato nei modi e nelle tempistiche per ogni singolo player abbiamo fatto prima l'esempio appunto del maratoneta e del velocista che entrambi utilizzano le gambe per correre ma i loro fabbisogni il modo in cui devono allenare i nostri muscoli sono essenzialmente molto diversi hanno però una base in comune e cioè essenzialmente l'allenamento del cuore no cardiocircolatorio stessa cosa per la mira quindi ragazzi essenzialmente vero gli aim trainers servono fino a un determinato livello qual è questo livello? beh un livello che non dico il 99% di accuratezza ma se il nostro livello di accuratezza quando entriamo in aim l'abbè del 25% tirarlo su boostarlo fino al 40% sarebbe cosa buona e giusta allo stesso tempo però all'interno di questo allenamento dobbiamo inserire un pochino di il feedback il sense delle armi del gioco in cui vogliamo andare a parare anche qui come nel precedente caso dobbiamo utilizzare e dobbiamo equilibrare i due allenamenti in modo tale che si fondino in uno solo e quindi ottenere il massimo risultato anche qui ragazzi il discorso è molto più complesso di come ve la sto per buttare giù ma essenzialmente dobbiamo pensare che l'aim non può essere allenato per tutti nella stessa identica maniera alcuni di voi potrebbero aver bisogno di un trainer sulla mira più generalizzato mi metto dentro io io come player ragazzi ho questo problema non ho molta mira e non ho mai neanche avuto tempo e modo di poter utilizzare gli aim lab o aim trainers a livello generale un po' per tempo un po' per fatica un po' perché non è il mio obiettivo migliorare tale fattore del mio gameplay e appunto sempre prendendo me come esempio per quanto riguarda poi l'utilizzo delle armi in un gioco che faccio molto come Apex me ne servirebbe un pochino di meno perché appunto conosco il feeling delle armi conosco le meccaniche del gioco e questo obiettivamente mi dice che tipo di player sono e che tipo di allenamento dovrei seguire la stessa cosa ragazzi riguarda ognuno di voi e ognuno è differente una cosa è certa l'allenamento generale con gli aim trainers va bene esso però non deve esserne abusato perché se ne abusate appunto rischiate di dare più peso alla mira e lasciare dall'altra parte tutto l'aspetto del feedback delle emozioni delle essenze del controllo che hanno ogni singolo gioco ognuno per se stesso ecco ragazzi l'allenamento deve essere fatto in maniera coscienziosa non può essere fatto così aim trainers ma si migliorerò sicuramente no serve una saggia prevalutazione di che cosa sappiamo fare di cosa non sappiamo fare qual è il nostro livello qual è il nostro obiettivo quanto tempo vogliamo metterci e poi obiettivamente tarare e rivalutare tali obiettivi di mese in mese di settimana in settimana eccetera 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 se abusate troppo del videogioco e non utilizzate gli aim trainers generale obiettivamente avrete il mio stesso problema allo stesso tempo utilizzate troppo gli aim trainers e giocate troppo poco a quel videogioco avrete il problema inverso eccetera 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 no ragazzi utilizzare gli aim trainers deve essere fatto con estrema saggezza e utilizzando anche un po' la testa ora però voglio entrare ancora un po' di più nel dettaglio e vorrei sviscerare questo argomento che ragazzi anch'io stesso più mi sono buttato dentro e più ho scoperto un mondo davvero enorme cioè i coach per delle squadre professionistiche di rainbow valorant eccetera eccetera hanno fatto un percorso davvero molto studiato per il aim trainers di appunto i pro players perché sono loro che definiscono valutano cosa un pro player dovrebbe fare cosa no dove è carente cosa no una specie di insegnante ma essenzialmente dietro lo studio degli aim trainers c'è davvero un mondo enorme pensate uno studio che è stato portato perfino da alcune università delle più prestigiose come quello di harvard dove essenzialmente sono stati studiati alcuni comportamenti di alcuni pro player appunto per quanto riguarda la mira e sì essenzialmente sono arrivati alle conclusioni che poi io vi ho sviscerato in questo video che utilizzare gli aim trainers a livello generale va benino ma fino a un determinato livello dopodiché bisogna passare degli aim trainers in game dopodiché bisogna conoscere le meccaniche in game dopodiché ragazzi bisogna sviluppare anche qualcos'altro l'intelligenza oh mio dio stiamo parlando di intelligenza nella mira o sì o sì il cervello serve senza ombra di dubbio sì ragazzi sembra una cazzata sembra una stupidata ma essenzialmente è proprio quello il collante che tanto ci serve per diventare dei bravi giocatori al nostro videogioco ed è quello che dà il peso maggiore e definisce se sei un player schifoso o un player che non ne sa niente non è la mira è l'intelligenza facciamo un semplicissimo esempio secondo voi in un gioco come Valorant se ad esempio ci troviamo in uno scontro 1v1 quindi togliamo via tutta la parte della comunicazione di squadra eccetera eccetera tra un player che ha il 99% di precisione e accuratezza versus uno che ne ha solamente l'80% appunto di precisione e accuratezza secondo voi il game a chi andrà? beh molto probabilmente avreste risposto che va a chi ha la mira migliore e invece no e chi essenzialmente è riuscito a tenere traccia se così possiamo definire delle varie possibili mosse che farà l'avversario appunto l'intelligenza riuscire a definire come ci si muove in quel determinato angolo viene dettato un po' dall'esperienza e dal game ma allo stesso tempo se noi sappiamo che un nemico potrebbe essere più o meno lì perché l'abbiamo scoperto per via di uno scout per via di una comunicazione o per via della rotazione in Valorant che è davvero importante noi possiamo prevedere che esso passerà o da una parte oppure dall'altra l'intelligenza ci aiuta appunto a definire in quali dei due punti può passare e quindi a prendere delle contromisure e serve a poco avere una mira un'accuratezza incredibile se vai dritto per dritto e pensi di poter uccidere il mondo solo perché sei un super figo nella mira serve anche un po' di intelligenza e lo potremmo vedere questo fattore intelligenza anche su come si comunica con la squadra su gli aspetti della rotazione ecco appunto ragazzi quegli aspetti del gameplay che prima vi ho citato avevamo semplicemente toccato la superficie e avevamo detto di come gli aspetti del gameplay dello shooting di ogni gameplay sono diversi ebbene ora reincaro la dose con qualcosa di ancora più complesso da imparare riuscire a leggere l'andamento di un gameplay riuscire a prendere le informazioni e poi portare avanti una strategia riuscire a stare calmi in una determinata appunto gameplay dove appunto i pro player ragazzi possono vincere e perdere centinaia di milioni di dollari io vi invito tutti a definire essenzialmente se sarà solo la mira a decretare il migliore assolutissimamente no lo è anche l'intelligenza ci sono alcuni player di counter strike che invece che fare delle super mega proate che sono bellissime stilisticamente da vedere preferiscono più che altro andare calmi magari le loro giocate non sono così adrenaliniche però riescono a leggere la mappa meglio di tanti altri player che magari li vedi fare un 360 scope ebbene ragazzi sono loro che dominano il gioco e non tu con la tua mira e così si conclude questo video che sebbene per voi siano stati solo una ventina quindicina di minuti si sono volete davvero molte ore e tante lezioni in inglese per poterle appunto sviscerare potervele raccontare in queste quattro macro pillole ma essenzialmente spero di avervi davvero aperto gli occhi e sport il mondo degli sport non è solamente mira essere bravi non significa solamente passare tanto tempo negli aim trainers ma significa davvero un'enormità di altre conoscenze non significa semplicemente giocare 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 come gli stupidi pensano che i pro player facciano ma significa utilizzare l'intelligenza metterci strategie studiare in maniera anche approfondita come vi ho dimostrato in questo video alcuni aspetti che fino a tre secondi fa pensavi fossero la base adesso ti accorgi che non sono la base ma è tutto legato indissolubilmente una cosa dall'altra insomma un altro special di sport io spero vivamente ragazzi che questo video vi sia davvero servito che vi possa illuminare e portare a diventare appunto dei player migliori e sport nasce appunto per questo se volete supportare questi miei sforzi io vi invito caldamente a iscrivervi a condividere il video perché obiettivamente in Italia di video del genere non ce ne sono e se avete piacere ci vediamo in un altro video sempre qui sui sport Grazie mille a tutti ciao ciao